Ieri a Bologna il Partito Più Europa ha organizzato un convegno sul caro affitti e l'emergenza abitativa in città con l'attenzione agli studenti. Un'occasione per fare il punto sulle regionali di gennaio. Sentiamo. Se il Presidente Bonaccini non farà un'alleanza come quella nazionale che coinvolga i 5 Stelle, noi europeisti, liberali, democratici e ecologisti dobbiamo costruire una lista a sostegno di Bonaccini per sconfiggere anche in Emilia Romagna l'opzione nazionalista e sovranista. Siamo chiaramente orientati per il campo di centro-sinistra, però la nostra è una posizione anche critica rispetto soprattutto alle politiche ambientali che fino adesso sono state fatte.